Come deve essere il pelo quando si sottopone ad un trattamento di depilazione laser? Allora, il pelo deve essere completamente rasato, in realtà deve essere accorciato proprio a ras della cute. Proprio anche il giorno stesso si può fare? Sì, assolutamente sì, perché si deve radere, perché in realtà l'energia luminosa, quindi il laser Mediostar, deve arrivare al follicolo pilifero, se io ho il pezzettino di pelo fuori, il fusto esterno non va bene, quindi bisogna sempre tenerlo rasatissimo in modo di creare una situazione migliore per il trattamento. Quindi si rade, si fa la seduta e poi che succede dopo? Succede che questo pezzettino di pelo che io ho trattato, che è rimasto sotto cute, nei giorni successivi viene fuori piano piano e viene espulso dalla pelle, all'incirca, entro i 15-20 giorni, a volte anche di più, in modo spontaneo. Dopodiché aspettiamo la ricrescita successiva, ecco perché bisogna aspettare due mesi. Questo sempre che trattiamo i nostri peli con tecnologie serie, con tecnologie sicure, come sono quelle che noi con Estelog proponiamo assolutamente nei centri specializzati di epilazione. Ecco, questo è molto importante. È una base di tutto, tutto funziona se la tecnologia funziona e se dietro c'è ricerca, sviluppo, serietà, studi clinici per dare alla nostra cliente il massimo assolutamente della sicurezza. Della sicurezza. Ho visto che tu hai applicato qualcosa. Sì, ho applicato un gel, un gel trasparente, che però serve esclusivamente per, quando io effettuerò adesso il trattamento, lo vedrete, mi serve per scivolare e creare una situazione confortevole anche per la nostra cliente. Quindi serve solamente per scivolare il manipolo. Vedrete che è un trattamento velocissimo, è più il tempo che sto a spiegarlo a quanto veramente possiamo fare il trattamento in se stesso. E poi aspettiamo due mesi alla prossima seduta.